...alta e salutare gli amici su Facebook, o chi vuoi tu, insomma. Vai poi. Ciao a tutti, mi trovo a Urban Solutions, una fiera interessante dove si dà spazio a architetti, a designer. Trovo che anche per il mondo del turismo questa potrebbe essere un'ottima occasione per vedere che cosa c'è intorno e scoprire nuove opportunità di proporre design e architettura. Grazie.